Curva dei contagi stabile in Sicilia, sono stati 440 nuovi casi di positività accertati nell'isola nelle ultime 24 ore a fronte di 23.206 tamponi tra test rapidi e molecolari che sono stati effettuati con una incidenza dell'1,9%. Peraltro, come attestato dall'Istituto Superiore di Sanità nel report fornito oggi pomeriggio, l'RT della Sicilia è il più basso in Italia, 0,73. Non accenna a diminuire il dato dei decessi, anche oggi ci sono state altre 22 vittime del coronavirus nell'isola, mentre i guariti sono stati 1.853. Migliora la situazione negli ospedali dove sono adesso ricoverate 1.034 persone, 41 in meno rispetto a ieri, ma ci sono 5 pazienti in più nelle terapie intensive dove sono 150 posti letto occupati. In Sicilia gli attuali positivi sono 31.569. Dei nuovi 440 contagi, solo 17 sono relativi alla provincia di Agrigento, 179 nuovi contagi a Palermo, 79 a Catania, 54 a Messina, 35 rispettivamente a Siracusa e Caltanissetta, 16 a Ragusa, 15 a Trapani e 10 ad Enna. Intanto da domani in Sicilia parte la vaccinazione degli ultraottantenni che sarà effettuata parallelamente alla vaccinazione del personale scolastico e delle forze dell'ordine. Proprio oggi è stata completata a Ribera la vaccinazione del personale scolastico Andal 55. Lo ha evidenziato l'assessore comunale all'istruzione Leonardo Augello. Tra ieri e oggi sono state somministrate le prime dosi del vaccino AstraZeneca a tutto il personale in servizio negli istituti scolastici di Ribera. L'assessore Augello ha evidenziato il lavoro svolto in sinergia con l'ASP e il distretto sanitario di base. In tema di scuola, peraltro, è arrivata l'ufficialità. Anche quest'anno per l'esame di maturità ci sarà solo la prova orale, a partire da un elaborato che sarà assegnato dai consigli di classe sulla base del percorso svolto. Elaborato che riguarderà le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studi. L'ammissione all'esame di maturità sarà deliberata dal consiglio di classe. Il credito scolastico avrà un peso fino ad un massimo di 60 punti, mentre il massimo punteggio per l'orale sarà 40. La votazione finale resta in centesimi e si potrà ottenere la lode. La commissione sarà interna, ad eccezione del presidente. Gli esami di maturità inizieranno il 16 giugno prossimo. Anche l'esame degli studenti delle terze classi e delle scuole medie sarà solo orale.